La regione Marchi ha scelto proprio la città di Fanno, quest'anno per il corso sull'antincendio boschivo denominato AIB. Due fine settimana dedicati alla teoria e alla pratica per 40 persone dai 20 ai 45 anni, due invece le province coinvolte. I volontari infatti provenivano sia dalla provincia pesarese che da quella di Ancona. A raccontarci nel dettaglio il lavoro di formazione è il presidente del Cibiclub Mattei, Saverio Livi. Sono quattro giorni intensi tenuti dai vigi del fuoco, solo qui abbiamo avuto la bellezza di quasi 10 o 12 vigi del fuoco in alternanza per insegnare ai ragazzi come si devono comportare nei confronti, nella lotta di un incendio boschivo. Oltre a questo l'incendio boschivo anche di interfaccia, cioè vicino alle case. È stato molto importante, interessante, hanno scelto appunto il polo formativo di Fanno perché si presta molto bene ed è terminato il tutto soprattutto a Bosco Col di Cave in una realtà dove i ragazzi hanno potuto veramente esercitarsi nel bosco. Nelle immagini che vedete non sono criticabili perché ancora i ragazzi non hanno i dovuti DPI, il casco e tutto il resto perché dopo quello che state vedendo all'interno del bosco devono dare l'esame per superare. Quindi essendo dispositivi individuali non possono dare un dispositivo prima di essere in pratica formati. Dopodiché andranno nel bosco con i dovuti DPI come i vigili del fuoco. Non si inoltreranno ma sono soprattutto in supporto, quando c'è un incendio boschivo, ai vigili del fuoco, al direttore di spegnimento. Quindi i vigili del fuoco gli hanno insegnato oltre a come si affronta un incendio, anche come utilizzare il proprio modulo per prendere confidenza una formazione molto molto importante qualora dovesse succedere un incendio delle nostre parti.